ciao a tutti da fede web e benvenuti su games collection tv questo è il video del boxing di angelic duet per saturn andremo a rimontare quello che è il contenuto di un gioco inutile che noi non riusciremo mai ad apprezzare perché della lingua non ci capiremo una mazza volete morire da quando youtube ci ha dato 15 minuti possiamo sfruttare 5 minuti in più di questa canzoncina bene è finito video boxing questo si mette qua questo si mette qua questa si mette qua questo si mette qua queste qua sono delle targhe bruttissime si mettono qua questo il fumetto si mette qua queste sono le istruzioni del gioco si mettono qua questo il gioco si mette qua questa è la scatola e la scatola e si mette qua e abbiamo finito questo video boxing di algeric 2 ciao a tutti pensavate di esservela cavata 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 Grazie a tutti.